da vischiva ricezione di spirito signorile la manda di là la magia di noemi signorile raggiunge l'ha visto il punteggio ma direi che l'ultimo dei problemi per la francese che comunque picchia fortissimo in seconda linea su D'Aldaro in campo me mi signorile 24 15 di nuovo a Cristina Chirichella il capitano della Igor Gorgonzola Novara dei gradi attenzione signorile che giocata di noemi signorile sul dottosette scandici ancora con spirito palla fila una mano seconda intenzione signorile eccola qua Magdalena Stigiac la martellata e poi signorile cosa si inventa 12 15 con cui la ingattuta ricezione di Perinelli l'attacco di Casotto arriva il muro vincente di noemi signorile orro per Larsson signorile frangua faraonezza grazie a tutti 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 grazie a tutti